Il Natale è da sempre un periodo magico e particolare che solitamente tende a far vivere la vita in quei giorni sotto una diversa ottica. Ma se lo riportiamo ai primi anni 80 e lo ambientiamo nella nostra città, probabilmente scopriremo uno spaccato di vita vissuta che ci fa ricordare aneddoti che forse avevamo dimenticato con il tempo. E' questo il sunto di Natale de Tan, The Mau, The Simb, è andato in scena l'11 e il 12 gennaio all'Auditorium de Gennaro di Bitonto a cura della compagnia teatrale Usapund e scritta dal dottor Michele Muschitiello. Le vicende della commedia si sviluppano nei giorni 23 e 24 dicembre e ruotano attorno ad una serie di equivoci vissuti nella famiglia Cappiello, con due diversi stili di vita che si incrociano tra Bitonto e Milano. Una recitazione che ha riportato il foltissimo pubblico dell'Auditorium a rivedere in scena i ricordi della vita di 40 anni fa della nostra città, tra l'ilarità e la commozione che hanno segnato tutta la durata della commedia. La figura di Vtucce, Carmine De Santis, onesto e povero barbiere a domicilio che cerca di sbalcare il lunario, al contrario di suo fratello Raffaele, Nicola Vacca, ricco direttore di banca, trapiantato a Milano. E la girandola di personaggi caratteristici partendo dalla nonna, Teresa Noviello, sempre pungente nelle sue battute, alla nuora ormai stanca e rassegnata, Damiana Tuffo, alla milanese Bitontina ma pur sempre di ceto basso, Nunzia Liso. E che dire del figlio sognatore, Luca Mercurio, e della figlia in attesa di marito, Dominga Genchi. A corredo dei personaggi anche Oreste e Pinuccio, Damiano Bove e Pietro Mumolo, artefici furbacchioni nel portare l'albero di Natale in casa Cappiello. Una prova di carattere della compagnia che ha strappato più volte sorrisi e ricordi anche negli occhi di chi, forse, è ritornato indietro nel tempo quando la vita di Bitonto era sì più umile ma forse più vera. Ottimo risultato anche della diretta streaming da parte di Radio W0 che ha raccolto oltre 10.000 visualizzazioni con contatti anche da Stati Uniti, Spagna, Svizzera e Germania.